Bene, grazie e soprattutto insomma i miei associati ringraziamenti di chi mi ha preceduto a Neville per questo invito e la Fondazione Zeri per questa bella occasione. Allora, chiaramente il taglio di questo mio intervento verte anche tanto sulle opere perché ho pensato che Pollaiolo, Giovanni Bellini, Raffaello, magari sono un po' noi più conosciuti mentre Crivelli forse vale la pena di vedere anche un po' di opere. Comunque, The Great Crivelli Against Track Me è una notte entusiasta riportata da Charles Eastlake nelle serie taccuini di viaggio il 10 novembre del 1864 quando tornò per la terza volta dal principe Anatoly Demidoff a Firenze a vedere appunto di nuovo il grande politico di Carlo conservato nella cappella della villa di San Donato che era forse il suo più grande desiderio. Ma su questo si tornerà più tardi perché l'episodio arriva alla fine di anni che ad osservarli oggi sembrano tumultuosi di studio e scoperte di costruzione di collezioni private e di musei alla ricerca delle opere più importanti dell'arte italiana. In questa fase, un ruolo incredibilmente importante sia per la storia di critica fino a quel momento sia per gli sviluppi futuri lo ebbe Carlo Crivelli al centro di una vera e propria rinascita una fiammata che in 30 anni lo portò ad essere tra gli autori più ricercati per le collezioni pubbliche e private non tanto in Italia ma quanto all'estero e in particolare prima in Inghilterra e poi in tutto il mondo negrosassone e specialmente in America. Crivelli era stato praticamente snobbato e misconosciuto da tutta la storiografia più antica ignorato da Vasari è citato solo da Carlo Ridolfi nel 1648 che lo dice allievo di Jacobello del Fiore e bisognerà aspettare solo il Luigi Lanzi che per onor di patria più che altro che era marchigiano cita alcune sue opere appunto nelle Marche. Il primo, in effetti, che nel suo vera riscoperta critica fu Amico Ricci che nel 1834 quando diede alle stampe le sue memorie storiche delle arti e degli artisti della marca d'Ancona un eruditissimo trattato che riportava opere e documenti e che dedica un capitolo intero a Carlo e la sua bottega cita molti dei dipinti che oggi non sono più nei luoghi per cui furono concepiti ma che dopo quella data presero la via del mercato. È per esempio il caso del grande politico di Porto San Giorgio che, cito perché sintomatico, oggi smembrato tra la National Gallery di Washington dove c'è la Madonna col bambino Jack Kress l'Isabella Stuart Garden il Museum di Boston dove si conserva il San Giorgio la National Gallery di Londra dove si trovano San Pietro e San Paolo il Museo di Tulsa quello di Cracovia dove sono le due lunette con le coppie di Santi e il Detroit Institute of Art che ha invece la pietà sulla sommità. Lo stesso vale per il politico di San Gregorio Magno ad Ascoli Piceno che fu asportato solo nel 1841 quando il Papa Gregorio XVI lo volle per il suo museo alterano e ora infatti è esposto all'Ampina Quattaca Vaticana e molti altri. Ricci scrive la sua opera dopo una lunga ricerca e dopo aver intrattenuto corrispondenze fittissime e custodiosi di antichità locali più o meno in tutte le marche e fu testimone della crescente fortuna sul mercato di opere dei Crivelli soprattutto a opera di Gnaccio e Cantala Messa ma aveva le idee ancora piuttosto confuse per quanto riguarda date e stile. La notizia dell'apprendistato presso Jacopello del Fiore è quella di Ridolfi riportata anche da Lanzi sembra produssibile perché il pittore veneziano era presente nelle Marche e lo studioso citava la Madonna della Misericordia di Pesaro ora nella chiesa di Santa Maria del Mercato dopo un lungo giro collezionistico ma in origine nella chiesa di Monte Granaro di Pesaro poco fuori dalla città verso Fano. A corroborare questa idea poi c'era anche la data in calcio al trittico di San Domenico di Camerino spostato a Brera dalle truppe francesi nel 1811 ed è subito entrato nelle opere più famose del museo insieme ovviamente alla Madonna della Candeletta. Il trittico firmato e datato in realtà a 1482 ha questa data tracciata con l'oro e la decina era stata letta come una X e perciò il dipinto risultava fatto nel 1412 in linea con una partenza all'inizio del secolo. Non ho mai capito perché a Migoricci non si fosse posto il problema di una carriera lunghissima visto che poi lui stesso riporta le date del 1468 che in realtà legge 63 del politico di Massa Fermana quella del 76 dei politici di San Domenico ad Ascoli che poi furono venduti a Zelada e sono parte di quel grande politico demito con cui abbiamo aperto eppure 1481 del già citato politico di San Gregorio ad Ascoli. Insomma pur con notevole sforzo per Amico Virici la confusione era ancora abbastanza sovrana lo stesso si può dire con un po' di stupore anche per Gustav Friedrich Wagen che in realtà dicono entrambi Crivelli tutto sommato è facile perché firma un sacco di opere e quindi si capisce. Comunque Wagen nel 1830 nel catalogo della Gemalde Gallerie di Berlino descrive tre opere di Crivelli un pittore che lui non amava molto tanto che nelle pagine iniziali di introduzione dice chiaramente che a Venezia prima della svolta rinascimentale di Bellini i pittori più importanti erano Crivelli e Vivarini che però caddero nell'esagerazione e nel grottesco. un giudizio severo che non abbandonò praticamente mai e lo vedremo al tempo delle visite delle collezioni inglesi ma che forse si può capire per uno studioso come lui appassionato di Giovanni Bellini della pittura veneziana come appunto abbiamo visto anche tra ieri e oggi. Comunque nelle Galliere di Berlino risultavano in quel momento tre dipinti di Carlo una era la Maddalena Solli che oggi è a Amsterdam il Rix Museum e che gli studi recentissimi di Marte Tisrael si hanno dimostrato come non provenga da Carpegna come da sempre è stato detto ma arrivi nella collezione dei conti di quel luogo solo tra 6 e 700 si dovrà quindi pensare a un'origine qualche luogo ben più a sud e lo stile che suggerisce una datazione sulla metà dell'ottavo decennio fa pensare a qualche accento tra Fermo ed Ascoli e piacerebbe che possa essere di Patranzone dove il culto per la Maddalena era diffusissimo ma ovviamente per ora è solo una congettura. Un'altra opera descritta da Wagen era Una Madonna col Bambino datata a 1481 con Gesù che teneva in mano un melograno e offriva un seme alla Vergine confesso che ho fatto molta fatica a capire di cosa si trattasse perché Carlo eppure Vittore più di una volta dipinsero melograni ma nessuna delle loro opere con questo dettaglio era datata a 1481 tanto che in quella fase la gherita di Crivelli è percorribile quasi ad Annum ed è un passaggio fondamentale perché il pittore in quel momento si trasferisce da Ascoli a Camerino cambiando in parte anche vita sperimentando soluzioni nuove anche dal punto di vista tecnico come poi velocemente vi mostrerò si trattava infatti della Madonna col Bambino di Piermatteo d'Amelia centro di un politico commissionato nel 1479 per la chiesa di Agostiniani d'Orvieto poi smembrato a partire dal 1806 e ora diviso tra Altenburg e Berlino appunto Filadelfia e Barcellona e attribuito variamente tutto l'800 a Berrocchio e a Fiorenzo di Lorenzo fino ai chiarificatori interventi di Federico Zeri del 1953 l'assegnazione a Carlo Crivelli da parte di Wagen sembra un errore quasi clamoroso ma forse non lo è fino in fondo intanto va detto che pure Otto Mündler più tardi quando viaggerà tra Umbra e Marche come inviato alla National Gallery di Londra spesso evoca I Crivelli per indicare uno stile più espressivo di qualche pittore Umbro o la presenza di frutta dipinta e quindi quel melograno sarà sembrato quasi una firma pure a Wagen ma mi piace ricordare qui dentro che proprio Federico Zeri dedicò quasi una pagina del suo saggio del 1953 e per Zeri chi lo conosce era un sacco di parole proprio per dimostrare come una certa luce nuova che vedevano i dipinti di Carlo a partire dal politico il Domo di Ascoli del 1473 risentivano secondo lui di questo verrocchiesco fortissimo il maestro dell'annunciazione Gardner ossia lo stesso Pier Matteo D'Ameria ora io penso che Carlo più che a Pier Matteo si fosse accorto del rientro a Perugia di Pietro Vannucci e risponda a quelle sensibilità epidermiche con guizzi di luce sui volti che prima non faceva e che poi scompaiono e che sono presenti praticamente soltanto ad Ascoli ma che dimostrano un'attenzione verso le novità più alla moda da un lato e dall'altro dell'Appennino la terza opera di Berlino era niente meno che il San Pietro e il San Giovanni Evangelista che Bagan indica come San Paolo di Jacopo Bellini e anche questa è un'attribuzione di Federico Zeri del 1971 ma che potevano evocare la supposta formazione nella bottega Jacopello del fiovere come in effetti lui indica precisamente anche nella scheda di catalogo per togliere il campo d'equivoci Carlo non si è formato nella bottega Jacopello ma aveva il padre Giacomo anche egli pittore e in più l'opera più antica la Madonna Cini dipinta alla metà degli anni 50 sembra legarsi alla cultura della bottega dei Bellini come già aveva detto Roberto Longhi che nel suo viatico diceva che andava evocato il Giambellino adolescente dipinta appunto Bellini solo dopo con la Madonna di San Diego si vede il legame stretto con Padova e con Giorgio Schiavone piuttosto che con Squarcione nel rapporto con il politico appunto della National Gallery alla fine degli anni 30 dell'Ottocento comunque la fortuna di Carlo Crivelli era solo agli inizi e solo nel decennio successivo si scatenarono antiquari e commercianti di mezza Europa per avere un dipinto di questo pittore da vendere o da collezionare smembrano anche interi politici la lista delle fuoriuscite di questo momento sarebbe davvero lunga e si può rimandare senz'altro la corposa bibliografia sull'argomento uno tra tutti Marco e Dispersa della Regione Marche un bellissimo e utilissimo inventario alla metà degli anni 50 per esempio a Londra c'erano moltissime opere sue ed è proprio Wagen nel 1854 una lista di suoi tracers compilate visitando ben 157 collezioni a descriverci la situazione la collezione Baker aveva la pietà già prima evocata che preveniva dal politico di Porto San Giorgio e le due piccole Santa Caterina e Santa Maria Maddalena parte dei pilastri laterali della para di Orodea di Giovanni per San Francesco a Fabriano che arrivò in Inghilterra soltanto l'anno successione il 55 e che ora sono però riunite alla National Gallery per queste opere la descrizione di Wagen è solo velocemente descrittiva però nota che la Maddalena è una repetition o the Magdalena on a large scale in the Museum of Berlino evidentemente si ricordava bene di quella che aveva a casa sua oltre a queste erano presenti nella medesima collezione la tavola con il beato Gabriele Ferretti e una Santa Lucia sul cui lo studioso inducia un po' di più la dolcezza dell'espressione della Vergine è l'unica indicazione sullo stile riportata da Wagen che evidentemente non era ancora persuaso della grandezza di questo pittore che in effetti dipingeva figure spiritate al fondo come lui decide in realtà non esiste una Santa Lucia come quella descritta quantomeno non è ancora tornata fuori semmai lo fosse che probabilmente confonde l'immacolata concezione ora National Gallery a Londra che come riporta la scheda anche in questa fototeca nell'Ottocento dopo essere stata venduta da Pergola transitava proprio nella collezione Baker e lì arriva la National Gallery dopo la vendita di Nasta nel 1874 e quelle figure spiritate forse saranno questi cinque rilievi dipinti sul parapetto di fondo con Serafini e Delfini ma di cui si riconoscono almeno cinque teste con gli occhi il giudizio sul pittore sfugge a Wagen quando visita la collezione Vard che aveva due opere maggiore di Crivelli l'intero politico di Porto San Giorgio tranne la pietà che era stata venduta ai Baker e la consegna delle chiavi a San Pietro commissionata nel 1483 per la chiesa di San Pietro Murato a Camerino e poi spostata a Brera con le requisizioni del 1811 la pala fu scambiata dal museo milanese nel 1822 con un piccolo dipinto Jan Philippe Van Thielen pittore belga specializzato in basi di fiori con il restauratore Antonio Fidanza che poi ovviamente lo vendete subito questa pala da lì passò alla collezione Vard poi Dudley dalla cui asta Ville von Bode l'acquistò nel 1892 pure il museo di Berlino descrivendola Wagen scrive che nella ricchezza dei dettagli la pala era uno dei più importanti dipinti dell'artista ed era rappresentativa della traduco dal tedesco pecuriale scusate dall'inglese pecuriale durezza di questo pittore che aderì allo stile antico mentre la famiglia Bellini stava sviluppando il sentimento per l'imitazione della realtà torna di nuovo il confronto con la più importante bottega veneziana del 400 e anche se in senso velatamente dispregiativo Wagen coglie le caratteristiche di Crivelli che infatti punta sempre a creare meraviglie materiche e questo era quello che probabilmente nella Londra vittoriana piaceva di più e che usa un disegno aspro e tagliente che ripassava anche tecnicamente con il nero di grafite sopra il colore anche in superficie appunto dopo averlo steso la tempera e sempre Carlo vela le sue figure soprattutto le madonne di una dolce espressività malinconica nella stessa collezione Vard c'era anche la pietà del politico maggiore di Ascoli ora al metropolit del museum che fu smembrato dal resto del politico Demidoff e anche l'annunciazione di Ascoli che nel 1486 era in collezione stocca anche questa era a Brera nel 1811 e poi nel 1820 viene scambiata per un dipinto attribuito a Caravaggio che così non è infatti rimasto nei depositi di Brera ancora oggi l'immenso lavoro di Wagen portò velocemente dei frutti e da quel repertorio nacque la grande mostra di Manchester del 1857 nel cui catalogo si riportano fedelmente l'indicazione bibliografica dei tracers a Manchester erano esposte la consegna delle chiavi appena vista la pietà del Metropolitan e la lunetta del politico di Porto San Giorgio del 1470 quella con San Girolamo e Santa Caderina che i Bardi nel frattempo avevano venduto ai Solange la paragia a Camerino venne celebrata per la grandiosità e la rappresentazione dei materiali oltre che per la conservazione mentre la pietà era stata descritta con le solide perplessità per the extravagance of this expression erano giudizi condivisi dalla critica tanto che nel 1856 quando la collezione Vard fu esposta alle Cipcian Hall a Londra la critica in London Daily News usava aggettivi come esagerato e anche ugly and melancholy le facce erano hard and much labored e via dicendo ma quello stile così espressivo e la ricchezza delle vesti e pure delle ambientazioni non poteva passare inosservato agli artisti della Londra vittoriana e uno degli anche più clamorosi delle opere dei Crivelli si trova nelle prove di Edward Bar Jones che in quel 1856 visitava la capitale e che conobbe appunto in quell'anno il presidente della Royal Academy nient'altro che Charles Eastlake Edward sviluppò una vera e propria passione per la pittura materia di Crivelli e per le sue composizioni infatti è stato già notato come le sue storie di Troia conservate nel Museum of Art and Gallery di Birmingham risentano probabilmente della struttura della Ronda della Rondine che dal 1862 era sposta a National Gallery ma ovviamente anche il Trittico di San Zero di Mantegna sembra chiaro e ancora l'annunciazione dei National Museum a Liverpool effettivamente è un pensiero sull'annunciazione di Carlo Crivelli appunto che dagli anni 50 era visibile nella collezione Stoke penso che questo dettaglio parli chiaramente e lo stesso si può dire anche per la tela alla Tate a Londra con il re Copeta e la Mendicante dove si vedono stoffe appoggiate a parapetti che discendono ancora dai dettagli della pala dell'annunziata di Ascoli e in effetti tutta la critica contemporanea in tutta la critica contemporanea scusate i dipinti di Barn Jones venivano messi in relazione a quelli di Carlo per indicare la grandiosità delle rappresentazioni nelle materie e nelle stoffe eppure va detto per una certa espressività che viene sempre definita esagerata durante il viaggio a Roma nel 1871 Barn Jones appuntò sul suo diario uno schizzo dal San Giovanni evangelista del politico di San Gregorio Magno e dal loro Museo Laderano e ora come già detto in Pinacoteca Vaticana è l'unico disegno da Carlo di Barn Jones che noi conosciamo può sorprendere che il pittore si sia soffermato solamente su un'opera che in quel momento era considerata tra le più deboli e anzi veniva spesso scartata come di bottego addirittura attribuita a Vittorio Crivelli come fece Cavalcaselle ma anche Otto Mündler che la vide e appuntò solamente che aveva ancora con la sua vernice originale e anche Eastlake nei suoi viaggi italiani non dette molto peso a questo politico in effetti quello che dovevano vedere gli studiosi non sarà stato molto differente da come si presentava il politico prima del restauro del 2018 che ha liberato la pittura da una colte di sporco che la rendeva pressoché illegibile restituendogli a mio modo di vedere la completa autografia fatto sta che per la sensibilità dell'artista inglese quell'espressione marcata di San Giovanni doveva essere di grandissimo impatto eppure questo dipinto non è certamente tra quelli più alti di Carlo che qui non esagera come il suo solito con dettagli minuti e nelle lamine di metallo prezioso che erano i caratteri preferiti dal mondo anglosassone mi si permetta una breve digressione su questo punto perché è chiaro come Crivelli usasse diversi registri espressivi anche nello stesso torno di tempo questo politico del 1481 e negli stessi anni il pittore dipinge anche il politico di Force da cui certamente proviene la Madonna col Bambino della Pianecoteca Vaticana trattata 1482 eppure il trittico di San Domenico a Camerino anch'esso dello stesso anno le tre opere si discostano una dall'altra proprio per la presenza di materi differenti nella tavola con la Madonna col Bambino quella appena vista oltre alla duratura a missione non si vedono né rilievi a gesso né altri oggetti mentre nel politico di San Gregorio questi sono relegati solo all'Aureole e alla Corona della Vergine il trittico di San Domenico a Brera è invece una continua sorpresa di oro di argento di punzonature e dettagli minutissimi dove le chiavi di San Pietro sono addirittura a legno a rilievo il piccolo politico di San Gregorio che ancora la sua connici originale prodotta dalla bottega di Pietro Lombardo intagliatore che abitava a Fermamo che lavora spesso per Ascoli si confronta puntualmente per Stile che era un altro politico che ancora la sua carpenteria completa ma di un intagliatore diverso e antica quello di Monte San Martino è un po' un mistero come quest'opera sia sfuggita prima da Amico Ricci che pur descrive le altre di Vittore conservate nella stessa chiesa e quindi anche Otto Mündler e addirittura Czar Sistlick che come vedremo venne nelle Marche alla ricerca proprio delle opere di Crivelli nessuno la cita forse perché oggettivamente è un'opera forviante perché dipinta a quattro mari con Vittore non voglio dilungarmi su questo visto che mi è già capitato di spiegare come noi lavorassero in momenti diversi sull'opera Carlo all'inizio degli anni Ottanta e Vittore invece più tardi nel 1489-90 intervenendo poi su un'opera incompiuta è però interessante notare come in un'opera apparentemente appartata e pochissimo valorizzata agli studi si possono osservare particolari tecnici ah insomma qui per farvi capire insomma la vicinanza con il politico copiato da Edward Brown Jones ho messo un po' di dettagli appunto si possono osservare particolari tecnici che verrebbe da dire sperimentari Carlo dipingeva a tempera praticamente tutto e fino alla fine della sua carriera eppure Eastlake quando scrisse il suo Mythos and Materials of Painting citò Crivelli solo velocemente sottolineandone un po' tristemente la lavorazione della superficie in realtà gli ultimi studi di Raffini De Luca che ha restaurato più di un dipinto di questo pittore hanno dimostrato che i suoi finti marmi sono legati quasi tutti a olio e mi pare che lo stesso mi pare lo stesso per questo dettaglio della Santa Caterina a Monte San Martino l'oro del vestito è pelato alternativamente di verde e di rosso con un pigmento traslucido il verde abbiamo fatto l'XRF quindi sappiamo è pieno di rame quindi sarà rasinato di rame il rosso invece è cinabro di mercurio ma evidentemente sono legati con olio e non con una tempera che sarebbe coprente si spiega così la passione anche da questi dettagli per la materia di tanta critica anglosassone per Crivelli a partire proprio da Eastlake fino ad arrivare ai recenti studi di Alison Wright e di Thomas Goldsen ma torniamo alla Londra di metà ottocento quando finalmente la National Gallery riesce ad acquistare il primo dipinto di Carlo per la sua collezione si tratta del Cristo in pietà che proviene dal pittico di Montefiore del Laso visto da Charles Eastlake nel 1858 nel suo viaggio romano e comprato per la galleria dal mercante romano Pietro Vallati che in quel momento aveva più di una tavola proveniente dello stesso complesso oltre a questo Cristo c'era nel suo negozio anche la Madonna col bambino e San Francesco ora nel Museo de Beauvoir di Bruxelles e otto tavolette dell'Apostolato della Predella disperse in giro per collezioni di Mezzomondo detto a Queenie di Viaggio di Charles non sappiamo il motivo per cui la scelta cadde su questo dipinto ma immagino che il fatto che in Inghilterra in quegli anni fossero state esposte altre tre pietà quella di Becker da Porto San Giorgio quella a Vard da Ascoli e nella stessa collezione Vard passò anche quella ora ai Musei Vaticani da Camerino faceva risaltare questo dipinto come caratteristico della sua produzione la riflettografia rivela anche lo stato di conservazione che non è così immacolato come appare e di solito come pretendeva Israe che ce lo diceva anche ieri perché si vedono estese cadute di colore ma probabilmente e qui faccio vedere anche un dettaglio insomma che il viso dell'angelo la bocca e il naso praticamente sono tutti inventati ma probabilmente la voglia finalmente di avere un Crivelli in collezione era anche più forte di possibili perplessità sulla conservazione la critica però a Londra non ne fu affatto contenta il Journal of Art commentò aspramente l'acquisto un po' per una appunto critica riterata nei confronti del direttore della National Gallery ma forse perché questo dipinto in effetti è meno ricco di tutti gli altri conosciuti in Inghilterra in quel momento il Politico di Montefiore in realtà è una delle sue opere più belle interessanti e il recente restauro ancora di Daphne De Luca ha rivelato uno stato di conservazione davvero straordinario insomma meno delle tavole rimaste nelle Marche con l'argento della veste della Santa Caterina ancora brillante non posso mostrarvi le foto perché il restauro non è ancora terminato ma ringrazio Daphne per avermi fatto seguire i lavori e per aver discusso con me di questi argomenti da sempre la storiografia ha pensato da una datazione intorno a 1472-73 nel giro del piccolo Politico per San Domenico Affermo e anche e per quello ben più grande datato appunto per Sant'Emita da Scolipiceno io credo invece che si debba avanzare di qualche tempo perché in questo caso Carlo va a sperimentare uno stile meno ornato più attento alla pittura e all'illusione utilizza sempre lamine a profusione ma le aureole solo sono punzonate eppure i castoni delle perle dipinte nell'antiare San Ludovico da Torosa sono illusi con la granitura ad Ascoli invece la materia era ben più preziosa e a rilievo eppure i castoni erano reali tanto che furono rubati tutti insieme alle pietre che saranno stati forse vedrini al tempio dei soldati napoleonici per questo la pietà di Montefiore acquistata dalla National Gallery sembrava la stampa povera cosa a confronto con le grandi pale delle collezioni private che appunto si erano viste l'anno successivo infatti Charles Isle che vuole correre dei ripari e da Monaco e Baviera scrive la National Gallery manifestando l'intenzione di negoziare per i crivelli della collezione Baker dove come si è visto erano presenti la pietà di Porto San Giorgio e la visione del beato Gabriele Ferretti che in effetti viene acquistato nel 1861 come ha fatto ultimamente notare Amanda Ilian questo dipinto è forse il più illusivo di tutta la carriera di Carlo e seppure manchi di quella carica materica che tanto piaceva agli inglesi diventa significativo per la presenza del paesaggio con dettagli minuti fino allo sfondo e soprattutto per quella ghirlanda che proietta la sombra sul cielo un'invenzione che mi pare geniale e che mostra come Carlo unisca la realtà all'illusione in maniera programmatica e in particolare in questa fase finale della sua carriera attorno al 1489-90 negli anni del suo lavoro ad Ancona e per i Ferretti e quando finalmente divenne cavaliere sono gli incantesimi degli occhi che Emanuele Adafra descrive nel suo esagio d'apertura il catalogo della mostra sul pittore del 2009 a Brera il rapporto tra Charles Eastlake e Carlo Crivelli non si esaurisce in questo acquisto ma anzi diventa sempre più forte e la National Gallery in breve diventa il museo con il maggior numero di opere di questo pittore dopo la Pinacoteca di Brera anche se non tutte le acquisizioni avvennero gli anni della direzione di Charles e anzi è incredibile che sia il pittore più rappresentato cioè insomma non c'è un altro pittore con tanti numeri in quel museo come Crivelli il direttore ogni anno compieva viaggio in Italia abbiamo visto la ricerca di opere da acquisire per il museo londinese i suoi diari appunto pubblicati in maniera esemplare sono disponibili anche online e fortunatamente sono una straordinaria testimonianza del gusto e della ricerca di Eastlake il direttore prima prova a scambiare delle opere con Brera stessa in forza del suo rapporto con l'allora direttore Molteni ma non riuscì a completare nessuna acquisizione insomma avete visto come Brera poteva vendere scambiare opere lui cercava di prendere l'incoronazione della Vergine da Fabriano insomma non riesce e nel 1858 seguendo il viaggio di Otto Mündler e immaginiamo quegli appunti di Amico Ricci qualche volta insieme anche a Cavalcaselle Eastlake attraversò praticamente tutte le marche alla ricerca di opere di Crivelli ovviamente questo intento non è palesato ma è chiaro solo scorrendo le descrizioni entusiaste che il conoscitore descrive nei suoi appunti anche a confronto con altre opere che lui viene nello stesso territorio ai nostri occhi sembra quasi bizzarro che oggi che una volta arrivato a Cancona lo studioso si perda nei dettagli della minuscola Madonna col bambino ora in Pinacoteca civica ma l'ora conservata nella sagrestia della chiesa San Francesco ad Alto e di contro liquidi con una certa velocità la palagozia di Tiziano che era esposta nella stessa chiesa si potrà forse obiettare che nel 1858 visitare una chiesa ad Ancona con le luci naturali e opere coperte e le vernici ingiallite non facilitava la lettura delle opere men che meno di questa pala tutta scura ma la reazione degli inglesi mi sembra comunque significativa anche perché ancor meno interesse è destinato a Lorenzo Lotto Charles vede il politico di Massafermana già nella sua forma attuale con la brutta cornice che racchiude le tavole e le cuspidi a vento poggiate sopra eppure la predella simmetrica che è mancante di una storia a sinistra insomma questa è una ricomposizione che ho provato qualche tempo fa ma la situazione doveva essere cambiata da pochissimo visto che nelle memorie storiche di Massafermana stampate nel 1860 quindi dopo il viaggio di Islec ma evidentemente scritto in precedenza Vincenzo Vitali Brancadolo ci informava che erano presenti gli archi dorati sopra le figure quest'opera non fa molta impressione a Islec che infatti dice che non era eligible cioè che non era acquistabile anche se possiamo pensare che i predi di San Silvestro sarebbero stati molto contenti insomma di vendere un'opera ma di contro fu praticamente folgorato dalla Madonna della Rondine che allora era conservata nella chiesa di San Francesco Amatelica la descrizione riportata nel suo diario è appassionata non viene lasciato nessun dettaglio dalla spada araba come dice lui del San Sebastiano ai capelli dipinti uno per uno dalla dolcezza del viso della Madonna fino alle storie della predella che lo entusiasmano come poco altro in quel viaggio della Natività dice che è vicino a Dürer e che San Giuseppe questa è un'indicazione che veramente faccio un po' fatica a capire è addormentato come Michelangelo non so se ricorderà qualche figura del giudizio non ho idea il Martire San Sebastiano è confrontato ovviamente con le cose di Bollaiolo e al di là di numeri boanti e chiaramente esagerati si vede come lo studioso abbia comunque compreso la caratteristica del pittore che a queste date siamo tra 1491 e 1494 recupera le forme prospettiche ricordandosi forse di un disegno di Jacopo Bellini che avrà visto 40 anni prima delle sue opere più antiche e aumenta però la carica espressiva delle figure la forma della pala d'altare non gli è congeniale a lui che era un formidabile pittore di politici e perciò risolve il problema giocando con lo spazio nella predella si vede la profondità prospettica mentre in ordine superiore le figure aggrediscono lo spettatore uscendo quasi dalla superficie aumentando quelle illusioni che prima abbiamo evocato per il beato Gabriele Ferretti è proprio un amore sviscerato per Crivelli da parte di Istlec tanto che nella stessa chiesa non ha lo stesso trasporto né per la grandiosa pala di Marco Palmezzano né per quella più dolce del servito da San Giorgio che comunque aveva anche uno stile bellatamente raffaellesco né tantomeno per il povero Luca Di Paolo che viene liquidato in una frase come weak and dry questo insomma lo prendo come un affronto personale perché è stata la mia tesi di laurea e quindi la tavola di Matelica nel momento della visita di Istlec non era in vendita e infatti l'annotazione del taccuino non riporta l'assegnatore Elagibow che ne senciva la possibilità di acquisizione anche se successivamente lo stesso Istlec scrisse che sarebbe stato disposto a comprare tutto nella chiesa anche la tavola appunto valutata da Murelli e Caselli una cifra altissima 60.000 franchi che significava lire insomma il cambio era 1 a 1 e prendere pure la palla di servito da San Giorgio e quella di Marco Palmezzano ma quella visita evidentemente non passò inosservata perché poco dopo il conti Luigi De Santis sedicente discendente dei conti ottoni la cui famiglia in realtà era già stata estinta alla fine del Settecento riuscì ad ottenere il diritto di esportazione e quindi la vendita alla National Gallery la vicenda è avvincente e convolge molti personaggi come Giovanni Morelli e Cavalcaselle che cercano in tutti i modi di fermare l'esportazione e suggeriscono l'acquisto da parte dello Stato del Comune di Firenze per gli uffizi a nord del vero Giovanni Morelli scrive al Ministro della pubblica istruzione ma scrive anche molto interessato a Istlec per sapere a che punto è l'acquisto come se facesse un po' un doppio gioco in quel momento invece Cavalcaselle difende a spalla tratta il non diritto all'esportazione è tutto ben noto è pubblicato più di una volta e quindi rimando a quelle pagine soprattutto a quelle di Nicola Spenni senza dilungarmi ma va detto che è una storia sintomatica della fase della loro Italia appena unita in cui il nuovo Stato era impoverito dalle guerre di indipendenza e dove il patrimonio storico-artistico la stava attraversando un periodo che verrebbe da dire di transizione tra le nuove leggi di tutela il fiorente mercato e soprattutto la necessità di attrarre i compatori all'estero semplicemente per fare cassa la vicenda della Madonna della Rodina è paradigmatica perché l'opera era in chiesa e con il suo bel timbrino sabaudo di Cavalcaselle e Morelli ma Luigi De Santis dopo la visita di Istlec la ritirò nel suo palazzo e ne rivendicò la proprietà in forza dello stemma della famiglia Ottoni infatti a Londra questa è conoscita anche come Pala Odoni suoi antenati che campeggia al centro della tavola i documenti ritrovati e studiati solo negli ultimi anni confermano che la commissione di cui il dipinto spetta proprio agli Ottoni e in particolare al Ranuccio ma non so quanto questo desse il diritto al De Santis di derogarsi il diritto della proprietà e di perorare personalmente la causa di esportazione presso il Ministero di Repubblica e Istruzione dell'appena nato stato sabaudo nella lettera del Conte madericese il ministro che ovviamente doveva cercare di sminuire l'importanza del dipinto si scrive puntualmente che Crivelli nelle Marche ce ne sono tanti e che in fondo questo non era un gran pittore una lettura diametralmente opposta a quanto pensava Istlec che infatti ad un certo punto saputi di questi movimenti si fa in quattro per completare l'acquisto e tra l'altro decide di far partire il dipinto non da Ancona ma da Genova perché aveva paura che Ancona dentro le Marche i moti diciamo nazionalisti che prima ci raccontava anche Giacomo potessero bloccare l'acquisto lo fece in fretta e furia tanto che a Firenze ancora l'anno successivo nel 63 si discuteva in consiglio comunale di quanto andava pagata questa pala che appunto era stata offerta agli uffizi e non si erano ancora accorti che il dipinto non c'era più ma il sogno di Charles non era tanto questa quanto il grande politico Demidoff che aveva visto più volte nella collezione dei principi russo a San Donato a Firenze il politico era racchiuso da una portentosa cornice neogotica fatta fare a Firenze ed al ricchissimo proprietario e quindi mi chiedo con Gabriele se magari potessero essere insomma i stessi corniciai dei Lombardi Baldi è appunto il ricchissimo proprietario per esporre le taure in la sua cappella e univano i frammenti di due macchine d'altare entrambe dipinte per Ascoli per la chiesa di San Domenico che oggi è la palestra dell'istituto magistrale di quella città poi ovviamente oggi nella National Gallery la parte alta i quattro dipinti del politico minore è stata smontata e sono esposti al lato di quello più grande ma dopo un lungo dibattito negli anni 60 del 900 insomma ci sono fatti tante domande su se smontare o meno questa cornice noi anche Islec in realtà nel 58 quando lo vede per la prima volta dice ma forse sul prezzo graverà questa grande cornice nuovissima appena fatta e quindi un po' si preoccupa si preoccupa di questo vendute dai frati insomma domenicani al cardinal Zelada a Roma dove lo vede Giallanzi passò ai rinuccini a Firenze e questi riuscirono a allenare il Cristo in pietà già incontrato nella collezione Vard a Londra centro del registro superiore del politico sulla trammaggiore della chiesa eppure la Madonna col bambino è politico minore e poi passata per la collezione Esterasi a Vienna e infine a Museo delle Belle Arti di Budapest tutte le altre tavole furono acquistate da Demidoff che li unì dentro la grandiosa macchina moderna insomma vi faccio vedere oggi come è esposto la National Gallery l'impressione che Nebbe Islec era grandiosa anche per lo stato di conservazione e nei suoi appunti si legge tutto l'entusiasmo ma anche la difficoltà per l'acquisto tanto che in un primo momento durante il viaggio del 1858 annota come non ci sia modo di comprarlo segno che comunque una domanda del principe l'avesse fatta successivamente la situazione sembra cambiare e nel 1862 lo studioso torna alla carica sapendo che appunto il russo ma volentieri sarebbe rimasto in Italia e che nel frattempo si era unita perché viveva con un certo peso questo nuovo stato legato come era alla vecchia aristocrazia del Gran Dugato di Toscana e infatti poi si trasferisce a Parigi e vende un po' tutta la collezione e qui faccio vedere un po' di dettagli anche dello stato di conservazione veramente straordinario e soprattutto di questa carica amaterica che tanto piaceva Islec e alla critica inglese nel nuovo viaggio del 1864 infatti Islec annota la frase con cui ho aperto il mio contributo aggiungendo che non c'era altra opera più importante di questa per testimoniare lo stile del pittore e si spinge proprio a dire che non esitirebbe a suggerire l'acquisto Charles gioca anche un po' sporco perché scrive chiaramente che in galleria forse avevano già la pietà mancante al centro del politico sapendo benissimo che quella comprata solo 4 anni prima a Roma era in realtà da Montefiore dell'Aso visto che lo scrive nei suoi vacuini e che probabilmente di questo era stato informato il venditore Pietro Vallati una mossa che serviva per ringraziarsi i trustees e per giustificare il prezzo richiesto enorme pensate che nel 1862 quando questo dipinto sembrava potesse andare sul mercato chiede addirittura un anticipo di budget dei soldi dell'anno successivo perché altrimenti non sarebbero passati tutti i soldi per comprare sia la Madonna e la Rondine che questo politico Charles morì nel 1865 come sappiamo e il politico Demitoff non venne acquistato prima del 1868 è come se il nuovo direttore William Buxal volesse continuare l'opera del suo predecessore e gli acquisti di Crivelli in effetti non si fermarono fino alla fine del secolo Eastlake è senz'altro il protagonista più entusiasta del recupero di Crivelli e forse ne esagira il ruolo trattando lo strego di Mantegna e Bellini e molto meglio di Signorelli e anche di Piero della Francesca per fare un esempio è però quello che più di tutti almeno in quel momento ne ha compreso lo stile e seppure le sue attribuzioni non siano senza errori si capisce come ne avesse compreso appunto il senso e come la sua lettura sia già moderna è interessante notare come a guardo Tadino quando vide il politico Niccolò di Liberatore del 1470 per la chiesa San Francesco lo vada subito a confrontare con i politici di Crivelli che aveva appena visto a Brera e a Firenze una lettura che a quelle date è molto intelligente che anticipa quanto detto anche da Federico Zeri nelle sue schede per Crivelli ma un secolo dopo non mancano sviste appunto come questa tavoletta di cosmettura del Pol di Pezzoli che era nella collezione costabile a Ferrara che passava come Andrea Mantegna ma che Islec appunta che potesse essere o di Marco Zoppo o del giovane Crivelli indicando quindi una formazione padovana negli anni e si è visto prima in cui si pensava in realtà che Carlo avesse partecipato alla bottiglia di Egobello del Fiore una lettura quindi che dimostra come lo studioso inglese probabilmente avesse messo a fuoco il reale percorso dei Crivelli come dimostra nella sua edizione l'Handbook of Painting quello redatto dalla moglie nel 1874 in cui Carlo è descritto come un artista contemporaneo di Ivarini che unisce la scuola veneziana e padovana la sua pittura è spessa grottesca e aspra ma anche le dolcezze umbre e soprattutto una perizia tecnica ineccepibile anche se e qui forse traspare un po' di dispiacere non abbandona mai la pittura a tempera e rimane sempre old facial in style peccato che Istele che non abbia visto il politico di Monte San Martino con quei tocchi di olio immagino che avrebbe apprezzato moltissimo grazie